Si lavora energicamente allo stadio Massimino in vista del match tra Catania e Crotone di venerdì 1 settembre affinché l'impianto si presenti regola e funzionale per ospitare la partita del campionato di Lega Pro. Il sindaco Enrico Trantino e l'assessore allo sport Sergio Parisi hanno effettuato un sopralluogo di verifica dello stato di avanzamento delle opere di riqualificazione condotti con celerità tali da poter ospitare la prima giornata di campionato senza neppure lo slittamento di una settimana che la società del Catania e il Comune avevano richiesto. In dettaglio si sta lavorando per completare la separazione della curva nord dal settore ospiti che è stato ristretto. Secondo la stima dei tecnici della direzione lavori e dei tecnici comunali si dovrebbe riuscire ad avere una capienza complessiva di circa 20.450 posti con un incremento di almeno 200 spazi aggiuntivi per i nuovi seggiolini, quest'ultimi ormai sistemati in tutti i posti a sedere di ogni tribuna. Un lavoro imponente che ha riguardato anche la coibentazione degli spazi sottostanti gli spalti per evitare le infiltrazioni di acqua piovana che in passato si sono verificate. Già completato il restyling degli spogliatoi sia per le squadre che per gli arbitri, mentre nella curva sud e nella tribuna sono stati rifatti i servizi igienici. Gran colpo d'occhio anche la nuova pista di atletica completamente rigenerata da uno strato di resina poliuretanica sui granuli di gomma precedentemente estesi e ora già verniciata con due strati di colore azzurro in attesa della definitiva tinteggiatura. Vista la complessività delle operazioni da compiere relativamente allo smontaggio di quello esistente e al montaggio di quello nuovo di ultima generazione, già consegnato alla ditta esegutrice di dimensioni notevolmente superiori a quella attuale, si procederà alla sua installazione nelle due settimane intercorrenti tra la prima e la terza giornata di campionato. Da segnalare infine il particolare trattamento a cui è sottoposto il campo erboso che è stato rasato per consentire anche alle parti coperte di poter meglio respirare, considerate anche le alte temperature di questi giorni e rendere così ancora più uniforme anche visivamente il green del massimino. Ormai completati i lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione e luci LED che consentono risparmio energetico di oltre il 60% dei costi e un inquinamento ambientale di CO2 pressoché azzerato.